Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale di Enduro Trial Valtellina Oggi finalmente, dopo un periodo di freddo, è arrivato il sole E con questo sole bisogna approfittarne e andare a fare un bel giletto in moto Allora, oggi vi porterò dei video nuovi, cioè dei sentieri nuovi vi porterò Che non ho mai fatto, cioè che non ho mai portato sul canale Sono abbastanza tecnici, cioè uno è abbastanza tecnico Perché alla fine è un po' stretto Invece il sentiero prima, cioè che alla fine è un po' una stradina È abbastanza scorrevole Però è molto divertente Un po' pericoloso Perché ai lati c'è giù il burrone Ok, qua parte la prima parte di sentiero Che è quella dove c'è lato il burrone Abbastanza carina anche questa Come vedete, a lato c'è giù un bello strapiombo Quindi è meglio stare un po' attenti Di non azzardare troppo Sono contento che finalmente è arrivato questo sole Perché io ero a corto di video ultimamente E se non registravo oggi Settimana prossima era difficile che uscissero video Adesso mi sto organizzando con i miei soci Tutti quelli che hanno un 135 Di farmi fare un test dalla loro moto Spero vi piaccia come idea Porterò un po' di motovlog Con queste prove Prevalentemente su un KTM Di diverse età Spero vi piaccia come idea Allora proviamo ad andarseli qua Ok Questo è il sentiero tecnico Più tecnico Che vi dicevo all'inizio Molto bello da fare Qua inizia a arrivare la parte Più difficile del sentiero Dove devo usare un po' di frizione Per farla andare Perché la mia moto Non ha tanti passi Però rende abbastanza bene Come dicevo Questo sentiero è abbastanza stretto Come vedete E' un po' pericoloso Ma Ce la si fa tranquillamente Ce la si fa tranquillamente Qua in cima ci sono Due belle curve da fare Ok E anche questa Di sentiero è andato Adesso Farò un po' di strada Per arrivare Ad altri sentieri Che abbiamo già fatto Questa qua comunque È la parte nuova Farò dei sentieri Giusto per completare il giro Quindi ci vediamo Appena arrivo là Allora Adesso siamo quasi arrivati Ai due sentieri Che ha un sentiero Alla fine Che voglio portarvi Come Con le fine del motovlog Allora Sentiero qua Ve l'ho già portato Nel primo motovlog Che ho fatto È un bel sentierino Anche questo C'è sentiero Sempre comunque strade Sterrate Così Non posso non dirci niente Quest'ultima pioggia Vedo che sia Abbastanza rovinata Poche sassi Wow Un rum in falso Però È molto scorrevole Di qua Non sono mai andato Quindi No Mi sa che su di qua Non si va Porca puttanga Guardate qua Guardate qua Cosa c'è Un'altra volta Amata impaltata Che palla Vediamo di Andarcene fuori Di qua Quindi si Si va dalla strada Purtroppo Questo qua Arrivava Sempre su Di strada Non l'avevo mai fatto Quindi non sapevo Cosa aspettarmi Quindi niente Si fa ancora Sto pezzo qua di strada Perché come avete visto Il pantone Che c'era giù Era quasi Impossibile Riuscire a arrivare su Siamo arrivati In località Prader Comunque Il sentiero Arrivava su Qua Sembrava bello Da fare Ma purtroppo Con quella parte Lì C'è poco Da fare Qua c'è un sentiero Che Anche qua Mi ispirerebbe Tantissimo Anche questo è finito Adesso Andrò a fare M Droga Un'unico Di riscesa Grazie. Un po' di falta, questo può sporcare la moto. Quanti alberi caduti che ci sono, cacchio. Scusate se non sto parlando tanto ma sono molto concentrato a guidare perché sto cercando di farla più veloce che posso. Eccola qua. Wow. Adesso cerchiamo di non ammazzare ci scendendo giù di qua, visto che magari è abbastanza scivoloso. Allora. 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 Adesso faccio un sentiero. Speriamo di non trovare piante che non ho mai fatto che prima o poi faremo anche in salita. Che sarebbe questo qua. E' bello tecnico, però ci sa, cioè è carino. Poi in questi giorni ci stiamo mettendo l'accordo io e Luca Dioli che è un altro youtuber emergente come me. Però lui ha un Suzuki RM Motard di magari un giorno. Faccio un video su strada con lui che comunque ci aiutiamo a vicenda. e lui ha 150 iscritti circa, un po' come me, io non un po' di meno. Lui fa video molto belli anche di qualità perché comunque sono fatti molto bene. Passate dal suo canale se volete ve lo lascio in descrizione. Allora, ormai questo sentiero è quasi finito, quindi anche il nostro giro è quasi concluso. Vi ricordo se vi va di lasciare un mi piace e un commento che farebbe piacere. Allora, vi stavo dicendo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirci su Facebook. Abbiamo la nostra pagina Enduro Trial Valtellina e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Spero di portarvi video nuovi, cioè sentieri nuovi che adesso, visto che sta arrivando la bella stagione, credo di andare anche dalla parte di là. E niente, bella ragazzi!